Ciao a tutti ragazzi sono Dan e benvenuti nella tredicesima puntata della serie tedesca oggi siamo qui con Samuele ciao a tutti Nafta ciao a tutti Allora ragazzi con questo milione e 631 mila euro che ci ha fatto AgriNafta Ovviamente lavorando duro perchè non so cosa abbia fatto Cioè ha venduto del compost infatti guarda un milione solo di compost 206,80 mila 500 mila 500 mila di compost E 400 mila circa di paglia E beh guardate un po' è entrata da raccolto un milione e non ce li citiamo ragazzi fidatevi Se c'è una cosa che non facciamo è cittarci i soldi Diciamo che ho C'ho la prova Che motivo è già? Basta mettiamo una minima fatica ce ne abbiamo un bordello Si infatti Ogni prova ho fatto 4 ore a caso nel Deus Ma hai superato 7,7 Allora Ragazzi oggi è giunto il momento di acquistare una nuova aperte cara Quindi Aranatri bisogna comprare questo Poi portiamo a casa tutto con la calma Adesso compriamo tutto quanto Questo e questo Ah però prima magari vendiamo le robe Ah qui ho venduto un erpice prima per sbaglio perché l'avevo portato qui E sono arrivato qui spensierato Ho venduto e non stavo registrando Qui c'è un po' dentro di fertilizzante E fa niente Ah vendiamo Vendiamo Vendi Ok E questo qua che sta in avanti Eh ma cos'è? E un kun E da quant'è? E cinque vomeri E due metri e mezzo E come nuve E uguale identico Si Perché se guarda che si metri non te li porti Te ce li porteremo io e Agri se va bene Mi sei buono Come io e Agri Eh Io e Samo scusa Cos'è ridi? No perché Guarda che non te li porti Tu te li portavo io e Agri Ti potessero prendere che cazzo Ah si beh nel senso Che non ce la fare Quei mezzi più piccolini non ce la fanno Si ma devo portare a casa Si si per portarlo a casa Si vai Poi dobbiamo comprare questo Che Agri farà un sospiro di sospiri E anche uno di questi E' un erpice Io Garmin gi'organizzando il tutto giangolo Sassone nella farmia nuova Anch'io Cazzo E' una zona Zona semina Tregno Mamma Eccolo Da venire Sta cominci a fare voce Sta fare voce Allora ragazzi Farmia nuova Correrò Su Agri L'aratro è nuovo Eh Agri Guarda che mestieri Io anche Io anche Ah 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 Denna Ma le pezzi con 7,24 Allora questi dove li mettiamo? Allora gli schieri direi di metterle qua Piazza da vannone qua Denna Ma sai che ce la fa bene bene con il seminatrice? Ah no aspetta qua ci va l'altra seminatrice C'hai Denna Cosa? Ce la fa bene con i 6 metri Ma si arami piazzai che poi ti arami il cervello Adesso qua lo portiamo a vannone no? No allo sposto che ci mettiamo le due dischiere che ci stanno giuste Se mi fai passare E dove metti l'aratro? È l'aratro con la calma Eh l'aratro puoi metterlo Mettilo là fianco alla benna Alla pala quella da spingere Che tanto non serve Cioè non Anche se non sta a sosto L'aratro mi fa poco Qua prevedo già Che a metterle a poco No Non ci passa qua Allora il mio mi sa ancora più alto del tuo Vabbè ma che problema c'è Non dobbiamo mica metterli in fondo Li mettiamo in cima È a posto Eh Quanti soldi sono rimasti? Eh? Quanti soldi hanno co? 1.572.000 Non è andato giù neanche proprio di un euro Tra vendere e comprare Poi giriamo l'aratro per metterli magari tutte e due nella stessa direzione E andiamo a prendere cose nuove Ragazzi oggi faremo big acquisti Tutti proprio spendiamo tantissimi soldi Anche le facciatrici La facciatrici con la calma adesso Anche il capo Eccolo lì sicuro Ora lasciamo la zavorra qui Occhio che giro di qua Non ce lo dicevo forse era anche meglio Ancolo Germano Stavo guardare da questa fatenna Sbattere Perfetto Ragazzi già tre ore qua sopra Certo Lo sfruttiamo troppo Posti tutti i mezzi con il doppio manettino E' il mio NINGA 4 manettini Sì come Matteo che c'ha 10 manettini sul trattore Ah poi Seminatrici Dobbiamo prendere un'altra di queste Eccola qui E per Il futuro Il futuro direi che possiamo aspettare Ecco già 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 E' andato addosso Beh ma gli è comparsa davanti Magari non ne può niente No Sono arrivato un po' veloce E mi è liagato Poi uno di questi Ok l'ha comprato Compriamo anche Samuele se ti cavi dalle baglie Uno Due Tre E quattro Poi E ok già dovrebbe essere a posto Il cano Aspetta che li riempiamo Vabbè Ma te li riempiamo Vabbè Vabbè riempiteveli voi Poi 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 Calsoni da carico Prendiamo l'heli Perché questo qui L'abbiamo già visto Fin troppe volte Potresti prendere anche Un po' De palette Per la seminatrice Visto che ci stiamo Eh si Seminatrice dovrebbe portarne Due e mezzo Quindi te ne prendo due Dovrebbe portare Due mila e cinque Adesso ci guardo Ma dovrebbero essere Due mila e cinque No Tre mila e cento Allora te ne prendo tre Che tanto ragazzi Ehi Comprarli adesso Comprarli più tardi Non ha alcun senso Cioè aspettare a comprarli Più tardi Non ha senso Li prendiamo subito Poi chi mi muove Ah forse No ma Dervici da prendere la fegola Quell'altro Ah Volo Che è che No Gli altri quindi C'è Cosa facciamo Samu Ci teniamo questo Ormai Che facciamo Ma vogliamo Volevamo prendere Eh io sono andato Così Ma poi lo siamo detto Poi insieme Non mi sono ricordato Eh sì Volevamo prendere La Sigma E il Dx Ma sai che sono meglio questi Eh lo so però Giusto per cambiare Vabbè ormai che abbiamo questi Va bene così Li prendiamo dopo Poi Volevamo prendere Beh quelle altre cose La destra Allora Fai il bravo Fai il bravo Fui Ditemi se mi sono dimenticato qualcosa Fatemelo notare La trebbia La trebbia è vero No La trebbia è vero No fermi Non è I gambi che trebbia Fai i gambi adesso I gambi si Ragazzi abbiamo speso tipo 300 mila euro Non ce ne siamo neanche accorti Ma quanti ne hai adesso 1.321 1.322 1.322 Facciamo in tempo Prendere i campi E la trebbia Ma se dovrebbe avviare la lama Per la trebbia La semina dice Per il maestro Ok Scusate ma dovevo strannutire E adesso si ma quelle lì Volevo prenderle più avanti Tanto per non stare a comprare tutto adesso Che non ci serve insomma Beh la trebbia Ci potrà La trebbia si Ma le lame più avanti Quelle per l'altra Allora Mettiamo a posto il trattore Che teoricamente non ci serve più E prendiamo la trebbia per tutti Perché poi mi prenderò ovviamente La trebbia solo per me Che sarà una 780 Tt Cominciamo con le peco Eh Non sarebbe una brutta idea Cominciate a fare un carro pieno d'erba E poi ne parliamo Allora E i campi d'erba Ci vogliono però I campi d'erba Abbiamo solo uno Non è che prendiamo lontano Adesso vediamo Cosa dovevo comprare io Nel negozio Cazzi Ah la trebbia La trebbia La trebbia prendiamo una 750 Daniele ti ha risposto Sì Mi ha detto che Io penso che un 9 metri Può essere già più che sufficiente Ah quindi ok Allora la prendiamo normale Anzi con i pneumatici larghi Ah quelli che piacciono tanto a nostra Poi distributori radiali Che sono quelli un pochino più belli Insomma non andiamo a prendere la trebbia della mutua Niente luci Pipe Direi che un XL Già va più che bene Io sperimento le nuove falciatrici Allora il logo cosa abbiamo 100 anni Modding world 100 anni più modding world Monster edition Monster edition più modding world Oppure XXXXX C'è il cos'è O no logo Allora il numero Non mi sembra In caso di metterci Cosa dite? Ma non ci mette co Dei loghi 100 years Però mi piace l'idea Sai La proviamo a vedere com'è Mettigli tutti e due Io solito facciano Non ho ancora cresciuto all'erba Ah 100 years Sono un genio Comprata Porca puttana che l'acqua Eh non è brutta dai 100 years finance Financial services Beh 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 Mi piace Limited edition Gli compriamo il suo pettinino Che è quello da 1000 No no Un laser Long stalk No prendiamogli le piccole Niente numeri Cutter for grass Ah eh Grass Grass è un tipo erba? Eh ma grass con una S Non lo so Grass E ciccione Eh credo sia Tipo roba come frumento orzo Qualcosa lì Perché poi c'è Stalk splitter Che sono questi cosini qua E poi c'è Rape knives Che sono i coltelli Quelli per la colza Alti Boh noi proviamo questi Che almeno Lo proviamo Class ovviamente Ok Ah non ce l'ha proprio Non c'è il cosi Che poi Vedrete un puntato Ora ragazzi Vi chiedo per favore Di pazientare un secondo Che sono Leggermente raffreddato Quindi muto un secondino Un microfono Tanto vi intrattene Agri E Zeppa Ecco quando chiedi di fare L'intrattenimento a low budget Ecco cosa succede C'è a low budget Allora Poi carrellini per le trebbie Una 9 metri Sono 7.50 Und 900 Apriamo questa Und Colore principale Ma Allora Che velocità fa la trebbia? 25 Credo 25 però Non 25 miglia all'ora Penso siano 15 miglia all'ora 25 miglia all'ora Sono tipo La 7.60 Ma scusa Eeeh Dan Tu prendi La 40 Magari lo tocchiamo Al trattore 7.60 7.60 Fa 40 all'ora Scritto Allora Colore principale Ma perché non mi mettono Colore classic Compro questo Cerchioni La Clash La rossa Sì Ma prendi Nei C'hanno più stile Prendi Nei Cerchioni Troppo tardi No Osamu Guarda un po' i pneumatici Larghi di sta trebbia Cosa ti ricordano I brino armatici del fermo Fammi capi Fammi capi Non diami che sono come i Fender 724 Come i quelli del Fender Sono tipo gigantesche E ci hanno fatto anche Sembra che vedono le bugne Belle belle Si è sposto il carrettino col trattore Se proprio vuoi Però scendere di sali Che si doppia E ora ragazzi Adesso Con 878.000 Abbiamo finito le nostre Eeeh Adesso si va a campi Adesso andiamo a campi Allora direi che Compriamo Questo qui mi pare il grande Sì dai Prendiamo Prendi un 2 e 3 campi dentro Eh uno ne prendo che è bello grande Un'ora esatto Questo qua 44.000 euro di campo Finalmente gli ampi c6 Che campo è? Ah quello lì dietro Sì delmeno siamo vicini insomma Poi le pecore per adesso aspettiamo Che tanto non sono urgini Ci vorrebbe un trattino piccolino Con le ruote strette Per da congi ma è basta Tipo l'urlimane con le ruote strette Eh ce n'è uno da poco Ci sarebbe rimasti Però li ho tolti Perché io sono furbo Guarda Guarda che in giù l'urlimane Siamo l'urlimane Eh sì Si imprenda No no Mettiamola zavorra Prendiamo No il nitro costa tanto Ci vorrebbe farmi Ordina per prezzo Ci vuole tanto Eh proprio Ma mettiamole sul Celtis Le ruote strette Da lasciarci fisse Tanto non usiamo mai quel mezzo Eh no grego Lo usiamo Il 109 Il 110 Il 110 Il 110 È brutto Eh Vabbè Davendo con calmo Lo vedremo un'altra volta Poi Allora campi Scusate la mia stupidità Il 113 Ma Eh vai Sempre prima che cresca Cosa Coltiviamo sempre Prima che cresca Quindi non ha senso Come strette Sì infatti È vero Allora compriamo Il 113 ragazzi Perché se no In questo punto Ci da sempre Stavolta è riuscito A replicarlo anche bene Però di solito Ci da problemi Quindi abbiamo comprato Il 113 Poi quello che mi piace A me Che è il 117 So che è grande Ma è tipo uno Dei miei campi preferiti Di sta mappa 360 mila Che costa 316 mila Però lo prendiamo Perché mi piace E poi E poi siamo Vidi risardi No ancora uno Possiamo permettercelo Se poi vogliamo Prenderlo Un campo d'erba Un altro Vai per 159 Che sta fuori No Dan c'è da tre bianni Eh Non lo so al momento Non credo No c'è da erbicare In teoria Sto campo che c'ho di fianco Dove sono Il 173 È bello lungo Insomma Ma c'è da erba No è normale Però è lungo È bello Eh Anche questo è lungo D'erba Oppure Questi sono Un po' lontani Il 33 Oh Dan Il 33 Dove aspetta Do sto io 25 Aspetta non ti viva Ah Dan Festeggiamo Sì 8 Oggi Il suo mio Deo Questa grande E poi direi di prendere un campo di quelli là Tipo il 97 Cosa dite 91 97 Sulla destra Quelli grandi sulla destra Il 95 Eh 95 è proprio grande Sulla destra Fianco il 98 Io L'83 L'84 Farà tipo 93 Ma io volevo prendere campi quadrati Che con gli attrezzi grandi si fa male Quelli Allora Via Via Lo 4 Lo 5 O lo 6 Uno dei quelli logo Vigino al 38 Eh Io direi di andare per il 5 Molti belli campi d'erba qua Che figlia sta zona per falciana Tipo Rienti con le zone dove abito io Tipo sta a destra campi d'erba Sinistra pure A destra campi d'erba sinistra pure Allora Dov'è il 6 Dan che campo devo fare Ah che co Eh adesso dammi un attimo Che io non Guarda che so meno di te Eh Ah guarda Tu ti ho già mezzo cresciuto il 5 No l'ho scritto in chat Agri Vai scrivi la chat Allora Però già sta il 98 Che anche darà Perché ci siamo dimenticati Allora Li cominciamo da capo Su E se vogliamo prendere le pecore Accontentiamoci E prendiamo anche le pecore 120.000 Quanti soldi abbiamo? 170.000 adesso Adè che diventiamo poveri? Acqua Allora Per trasportare gli animali Allora animali Ma almeno i gambi che siamo comprati E' Sommendati? No Si 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 Un po' si un po' no Comunque Aspetta un secondo Ah direi di prendere questo Che almeno Cioè tanto ci costa tanto uguale Almeno per il futuro Ci porta a tutto Qual è? Questo Ci porta anche Le scrofe con Tutto quanto Ci vuole anche la bottiglia L'acqua eh Eh adesso con la calma Ma questa E' la bottiglia Dell'acqua Che sta su varie Non è vero Sta su animali Quando abbiamo il debito Zero Poi che prendo il debito Comunque c'è un uno Da me che con 110.000 Tino il mondo Tre rome Eh ma al centro di Giovanna Dipende anche quanto lo fai andare sotto Poi il warrior Il raptor dipende di tutto Dipende anche dal tipo Al terreno C'è anche il marcelloso Ah ah eh Il 98 Dove cazzo E' tutto a destra Ok Posso prendere i sei uomini Col C'è Col Deus No al carrellino No E cominciamo bene Abbiamo già inaugurato bene Sta trebbia Ho già capotato il carrellino Qui si Ma si prende No no Non mi serve Credo No No Cos'hai fatto No Niente Se l'abbasso Cosa avete fatto Niente No Tutte le devono costruvate No 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 ma il bello come eri Tipo eri appeso Quando sono arrivato subito io Ah beh Anche di Arami il campo d'erba Ne No Eh Io stavo andando a aiutare Eh eh Allora Io ero qua con la trebbia Mi ho detto che L'ho sganciata Adesso basta Cioè sporgi un po' di dietro Però basta allungare il carrellino che è allungabile Questo C'è l'hissette N'è assomentato C'è basta che fai x E' assomentato Oh Oh Poi anche registrarla Insomma è un altro Non è assomentato A chi sono assomentato Il centro di asset Puoi scegliere i colori In rosso, in nero, in verde Insomma Mi sembra Era bella questa Andando in dentro Ah e questa ci studieremo un po' In Hamburgo insomma Ci studieremo come Che targa metterci Per ora portiamo la via così com'è Scendiamo le lampeggianti Oh corre però Corre corre Si magari Parco 40 se ho sbaglio Ecco eh Mi sono già incastrato sul palo Corre fin troppo Ah questi interiore non avrebbero avere il bug Che se ti avvicini si apre infatti Mi sembra che non ce l'abbiano No Quello che ti sa per condotto Eh no queste non dovrebbero avere il bug Spergliamo Ma ce l'hanno sicuramente No non ce l'hanno Abbiamo appena provato Ma cosa prego Ah 760 Quando è che ti sapeva il condotto Quando allontanai la visuale Eh no Appena muovevi tipo il mouse Ma io ho fatto il pieno Verso le 6 e mezza Ho già fatto fuori un quanto di sabato Eh bravo Vuol dire che lavori duro Questa ragazza poi la sistemeremo con calma E adesso Dovrei avere 724 da qualche parte Ovvero Ne ho stanno No adesso ne ho stanno Nella Le capanno andiamo a prendere già le pecore Cacchio Ogni volta Che arriva il campo 98 Non mi accorgo che se non mi vado dritto Ogni volta E io invece penso di averlo sempre passato Infatti vado sempre con la mappa aperta in quella zona Vado a mangiare Un po' da con la mappa aperta Non appetito Allora Stamata ragazzi è un pochino un problema Andare a comprare gli animali Perché Fossa andarci col bilico Ha un pochino più difficile Adesso vi faccio anche vedere perché Oh Dan Una domanda Quando è che cambia Agri Comunque ragazzi Mi sono andato a rivedere un pochettino di puntate vecchie Della vecchia serie tedesca del 15 Per chi se le vuole andare a rivedere Si fa sicuramente due risate Cioè Soprattutto quando fanno compost Soprattutto quando facciamo compost Che però io cercavo appunto quelle parti lì Ma devo dire la verità Le ho tagliate quasi tutte quelle parti Dove facevamo compost Che erano le più belle Ma dire la verità Me ne penso tantissimo Di averle tagliate Adesso vi dico anche le due puntate Che ho salvato da parte Nel caso vogliate andare un attimino A vederle Den Passioni X fatto Eh Dan Eh? Si mi so cantare Si Io ti ho detto Den Passioni X Ah ecco capito capito La interia acqua Dove essere Si sul carellino Allora pecora Perché vedete abbiamo anche La scrofa al manzo La bovina femmina Chi è che vuole comprare dei bovini femmina? No eh no Andami C'hai tante varietà di animali Si 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 Non ci sono Perché non ci sono E' quelli che ho detto Quelli normali Poi scrofa Bovino E bovino femmina Li E anche il cavallo? No No E vabbè ragazzi Vi dicevo che veramente Sono puntate strepitose Quelle Io vi consiglio Se voi volete guardare C'è la puntata Numero 46 Che si intitola Troppi danni Intorno al minuto 14 14.40 E poi La puntata De Numero 39 Che si intitola Peggio di così Non si può Che non ricordo di preciso Il minuto Però tipo Salti in aria La trebia Il pettine Va sopra C'è Simo Ho fatto una cosa intelligente Vediamo andate tutte Dalla prima Ecco E andate sotto I commenti Per vedere chi Chi va a vederla Andate sotto i commenti E scrivete L'ho visto Oppure Scrivete quello che vi pare Basta che mi fate Un commento sotto a quel video Non l'ho visto Ha un po' di senso Controverso Vabbè Nel senso Chi ha visto Saltare in aria La trebia Al minuto Tot Va lì e scrive Trebia Saltate in aria Al minuto XY E Z O se no Un attimo Facciamo un altro Un'attimo Chi vede Quella roba Lì Scrive Hashtag Fermone Eh Esatto Proprio quello Quello è riconoscibile Va bene Dai ragazzi Direi che ora Cominceremo un po' Con gli animali Dato che Chi è che mi ha consigliato Di cominciare con le pecore Samuele Allora Samuele Si metterà qui Forcone Ah qui c'è anche Grego Ma boh Si sta mangiando Una tavolta Maiale Cioè Quella lì va a mangiare Si mangia giù Una stadita E Ah qua c'è la trebia Perché deve ancora fare il 38 In teoria No Non si capisce Perché qua c'è la trebia No Perché l'ho lasciata lì Io che ha tutto buio Beh ma tanto c'è da fare il 5 In teoria Che è È da fare Ah grazie alla mia pregrizia Eh bra 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 E niente ragazzi Io vi ringrazio Tantissimo Ehi Per la visione Andate a vedere appunto Quelle puntate Se vi interessa Da Dan Ah una roba scusami Agri Se ti interrompo Non vi ho detto Che quelle puntate Hanno qualcosina Di leggermente speciale Cioè sono sempre io A registrarle Siamo sempre con Simo E generalmente basta Siamo io e Simo In quelle puntate lì Ma siamo sempre Su questa mappa Iguale identica Quindi magari potrebbe essere Un pochino speciale Magari Vedere come ci svolgevamo Noi nel Un anno fa Con le stesse identiche Modalità O un pochino diverse L'avevamo cominciato Tanto col compost Qui abbiamo fatto Tanto con le assi Con le assi Con le assi Di pallet Di pallet Là Con la lena Ebbè Non scazzare Anche anche Con il compost Eh appunto Va bene dai Da Dan Nasta Samuele che mangio È tutto E Grego che mangio Ciao a tutti Ciao Ciao a tutti